Musica 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 Ascani Muson Ma mordi o quanti pio meccanali di aiuto ma perché quando dici che finira molto male deve finire molto male per me vabbè avevo due kamikaze attaccate al culo ecco me no qua c'è l'armatura però c'è il tori tori pure ahia siamo volato via questo funzionerà nel 21-2012 che ci ha passato ma se ne fottono ok basta da finire di giocare la palla con me tori di merda kamikaze basta vi prego voglio smettere di giocare a questi giochi ultraviolenti allora possiamo avanzare vediamo perché mi sono oh c'è c'è vita però il tafu no c'è ancora altri kamikaze e ha un altro toro che cosa sono ste cariche qua senti come si incazza sono quelle cariche che dobbiamo trovare e mettere no forse c'è quelle che ce l'abbiamo già ecco quella cassa delle esplosive che è molto sì c4 dobbiamo mettere a un toro che è un toro ma che devo mettere i c4 c5 c6 e ci sei ancora per poco e faccio così io? bom ah 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 Ok, basta però, eh Non basta, mi devo incavolare, davvero Non ci credo, abbiamo investito Mori Stupido Toro Ha finito, grazie Mi fatti arrivare qua sopra Ma non serve Forse c'è un tesoro là Un segreto, scusa Eh, mi sa che è bravo, devi mettere questi carichi Tanto vado a lavorare E mi dite tutto Quindi, amici Capitanza Amici, io sto andando dalla parte opposta Per prendere altri esposivi Ancora Tori Basta, sti Tori 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 Ho un altro tono Pum Cosa Cosa Oh, non ci vedo niente Che l'ho combinato Non lo so, hai fatto esplodere ma non si è rotta la sfinge Allora, vado a prendere Mi sa che è finita per davvero stavolta Ah, il video Ok Ok, la canzone va tutto bene con il fischiettio Sti Tori Sti Tori Sti Tori Sti Tori E fa un minuto ose I 3 2 Un animale? 400 dollari 400 dollari Nel Perché esce... Perché c'è il coso, come si dice, il... Il... L'effetto quello della sabbia che cade dal cielo Cioè prima... Vabbè, oh, oh Sam, cosa stai facendo? Questo è... E fammi un altro senso Ok, dovremmo entrare dentro la sfinge credo Oh, che vagina Oh, che figa Non abbiamo perso danno, ragazzi Attenzione che c'è lo Slenderman Oh cazzo, però mi fa paura sta cosa Potrebbe pure esserci qualcos'altro, non lo so di... Scusa, ho por dei vaso Ma qua, eh sì, i vasi sono molto... Sopratori Cos'è? Scusa Perché ho tirato il pene di questo tipo? Ah, un meccanismo, come so Dobbiamo salire sopra questo E poi, nel nostro esempio, che questo sta a basso, dobbiamo saltargli sopra In questo modo I buffi sono gialli No, che cazzo... No, no, aspetta Ehm... Buttagli sotto, aspetta Io sono qua Scendi giù Devi scendere, se no io non posso salire Allora Eccomi, sali Metti... Allora, adesso Dove do un cazzo? Sali sopra, sali sopra Sono già sopra Eh, dovrebbe... Ah, ok, perfetto Sì, e dovrebbe... Sì, così, così Come diceva il buon vecchio Salta Ok, salve Non ci credo Lol Dobbiamo saltare una alla volta, sennò è un puttanaio Io dirò la leva Ah, aspetta, non c'è ancora cozzata Ok Sali sopra Sono già sopra No, perché non... Cos'hai in mano, perché non... Una pistola Wow Si, 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 si No, porca Oh, ci sono arrivato però, sono un degno Ma, vai, vai, tu, tu, vai Lo scatto No, vabbè, provo a fare lo scatto prima di soltà E che faccio schifo nei platform, ma anche quelli più semplici C'è visto in bloody trap land, comunque Dai, cosa Scendi, muoviti, muoviti Salta prima tu, va Ok Allora Vai Ok, ci ho fatto Oh, ci abbiamo fatto, si, che bello Andiamo su Fa molto Ecco Fa molto la tomba dell'imperatore qualcosa Un altro cunicolo stretto, fantastico Slenderman everywhere Ho puntini bianchi Che bello cadere Ok Ancora Pistolata Ciao, sfinge Ok Con pezzo troveremmo qualcosa A me puzza di Slenderman A me puzza di qualcosa Però non so cosa Ok, un altro, ho quanto a lungo questo cunicolo Ok, ci abbiamo fatto Oh, porca droga Qui La luce Penso sia una porta ma è chiusa da quello che vedo La porta è chiusa a chiave E' la chiave E' quindi E' un fottuto enigma fantastico Better be light E' che c'è qualche porta tipo Ok, io sono molto Ah, c'è qualcosa Oh, cazzo Mi sa che dobbiamo combattere un boss Eh? No, non c'è Vieni qua Vieni, seguimi a me Eh, sembra feccia Ok Ok No, dobbiamo combattere con il re Strano Oh, oh Che cos'è? Eh, ma hai giocato a Stalcat Mi sembra un Una specie di Come si chiama? Un bracciale Che cazzo hai? Ah, ne bisogna Non lo so, c'è qualcosa tipo di fa' Ma andiamo Oh, che figata Oh, il mille tempeste Better be light No, aspetta Voglio farlo Better be light Lol Eh, dovremmo usarlo sulla porta? Ah, ci voglio capirti Ah, no Ma se ci vai davanti E' buongiorno Perché sono più basso di te? Sembra Ma dove stiamo finendo? Oddio Sono sotto Ah Mi sta baggando tutto Oh Ok, siamo arrivati a qualche parte Wow Soldi Fatata Figa No, ti prego Vabbè Simile Tavolo pieno No, peccato Cos'è? E' una specie di mappa No, battaglia navale 2.0 Battaglia navale 2.0 E' una versione in scatola In scatola In scatola Gli egizi giocavano così In scatola 3D In scatola 3D Bene, schiacciamo tutte le navi degli egizi Ma andiamo avanti Nei terpilai Ma... Che cos'è sarebbe a nega? Tu lo sai, no? No Ok, bene Perfetto Cos'è? Ciao amico Lascia Oh Ok, mi piace Mi piace anche a mio Ora devi svegliere un faraone arcano da questa tomba No, eh? Bene Aspetta Oh, ho trovato un passaggio di credo Fallo esplodere No, non c'è una mazza Pensavo che era un passaggio Che figata Vabbè, possiamo andare avanti? Sì, dai Mi piace sto bracciale Sono davvero molto epico Ma su che arma è? Eh, sarebbero i pugni Ah sì Perché ti vedo sotto il pavimento? Wow Wow, 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 wow Ah, ok, mi hanno trovato un colpo Vabbè Il pionero È completamente epico Sam Ah, andiamo fuori Wow Bene, tante munizioni Vuol dire tanti stronzi Questo è sicuro Ho un solo grande stronzo? No, non penso Non è mai così insidio se mi ricordo E ci sono molte munizioni Oddio, mi sa che c'è Di nuovo la super nave Ancora Eh sì Perché guarda quante 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 è grande lo spazio Sì Ok, già arrivano Guarda qua Guarda qua c'è l'uscita Sì ma non penso che possiamo andarci ora Hai trovato un segreto, davvero? Ma che culo Tutti tu li trovi Non vale? Sì ma è un medic che ti hai messo lì a cazzo davanti alla porta Ah E questo ti Vabbè Cosa stai usando il braccio? Oh Ah kamikaze Usa un po' Di casa un po' troppo sto bracciale Cazzimase Sembra tipo quello la di Samtum Per chiare le torrette Evidentemente Samm Altri kamikaze rompi cazzo Siamo un'arma sul caricato Ok, sarebbe un controsenso BAM Pure i Hulk Della prima guerra mondiale Ok no no Vai da scene Più è più Pro Te lo so Ok basta Sotto le padelli In effetti è un po' Tutti risparrano un po' di proiettili Puttanaeva Oh Non vale Brutti creep Creep everywhere Kamikaze Oh Ok Devorevo andare a recuperare quell'armatura Mi chiedono A corto di culi Salve Amici kamikaze Vengono Ok ok Calma calma Ce la stiamo facendo Sta arrivando un sacco di strong Eh da quello che vedo Io sparo se non sarà No figa No ti prego No 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 ma buona dai Un sacco di regali Ma I tori Pure i tori Pure i tori Basta Non ciò Ma Ma Peccato che non è come su Minecraft Che C'è un biomeccanale dei giganti che è più veloce di Giuse in bolt Mamma mia ragazzi che puttanaio Aia Cristiano ma gioglio Tu dove sei? Stato che ti ando a far fuori dei mici o manetta Eh a chi lo dici Oh No 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 Patata Mus Ok Che cosa spari missi tu? Sto beh ho finito i colpi merda Salve clean Clean up utilities Mattane no Oh grazie Mi sono salvato le chiave Oh merda Tutto 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 No perchè Quanti cavolo sono Oh Dio me ooo Bombeota Ma la mia impressione no Oh oh Mi stava fallendo Il Ma finiscono o no? Oh Cristiano no Madonna Aiuto 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 Oh madonna ma non finiscono più veramente Mister Torero Torero Che parte noiosa amiche Le parti noiosi sono quelle del combattimento No Sono quelle dei combattimenti eterni Eh quello dicevo Perché combattimenti Combattimenti Ha ancora sti cosi Ma sono Sempre un problema Ok Sto morendo Porca troia Oh biomeccanoidi 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 Biomeccastronzo Salve Dio Ok Un biomeccastronzo di meno Eh ma ce ne sono ultimo mille E c'è quello rosso inculato Da tutti Che vuole vendicarsi Si Ce l'abbiamo fatta Un altro biomeccastronzo di meno Adesso ce ne sono ancora un paio da fare fuori Un paio Io ne direi parecchi Unacchè 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 Una Oh� Clear Clear Cerco di vita Rrrr Ho finito i missiles praticamente Però Me l'ho ammazzato Usai Le doppiette che impastisano Mamma Mamma Succa Basta Succa Basta Basta Ti stacco la testa Puttana Puttana Una testa di clear Oh Clear Ma puoi morire Sono finiti i clear I clear Ma a caso lo vuoi clear Mi sa Sono finiti i nemici No ce n'è ancora uno laggiù Sono clear Sono fin Eh si Adiranno Ti vede che io li tolte Qua What's up Chi vanta da pro Olè Yeah Kill epic Finiti Un'armatura Armatura Dove diavolo sono Cioè sento ancora una musica io C'è quello qualche nemico Probabile Ma dove Boh Lei si è buggato tipo di Ah eccolo 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 sta qua Si è buggato dentro una roccia E' uno di quei quasi che sparano i raggi Ok E' tempo di chillarlo Cos'era quel raggio Non lo so Ah sta qua Finiti Si 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 Che l'ho dato a Gesù Cristo Ok andiamo Ok andiamo al cancello Ok magari Ah no arrivano loro Siamo salvi o no? La corsa verso la salvezza Ok I'm in It's time for us to get the Hellfire Fancy meeting you here The pleasure is all mine Eh beh Eh mezza cao Ah ok Un temporale fermo la ricetta inizia un po' e fammi un altro semplice donna esatto ok abbiamo finito sto capitolo finalmente è durato una vita sono tutti i combattimenti wow ok ragazzi noi qua vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo livello che è il ritrovamento del sole farà molto caldo quindi ci porteremo la crema solare è l'abbronzante perchè vuole essere più nero santa sam non può essere nero io sono del lontano lord quindi da shen e sammy è tutto alla prossima gente bye bye ciao